Manager, ingegneri e informatici sono le figure più difficili da trovare per le aziende toscane e quanto emerge da una ricerca presentata nel corso dell'evento Superare lo Skill Mismatch promosso da Investi in Tascani, la struttura della regione toscana nata per attrarre investimenti esteri. Gli economisti lo chiamano Skill Mismatch e vuol dire la mancata corrispondenza tra le competenze richieste dalle aziende e quelle possedute da lavoratori. C'è chi è troppo qualificato e chi troppo poco e ci sono offerte di lavoro che non trovano un'adeguata risposta. Un problema nazionale che la Toscana ha scelto di affrontare partendo dai dati e costruendo una strategia adeguata per attrarre investimenti attraverso lo sviluppo delle competenze. Per questo l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale in collaborazione con Kilpatrick e il gruppo di ricerca Icors del professor Vincenzo Cavaliere dell'Università di Firenze hanno promosso un'analisi che ha coinvolto 111 imprese toscane, la metà delle quali di grandi dimensioni, coinvolgendo direttamente i direttori del personale. Dall'analisi vengono fuori una serie di indicazioni interessanti dal punto di vista delle carenze manageriali, organizzative e anche tecniche dei ruoli presenti in azienda. È vero anche che c'è una parte delle aziende che investe molto in capitale umano, gioca molto della propria capacità di generare competitività attraverso investimenti in formazione e sviluppo e il supporto anche della regione e degli enti territoriali è un supporto importante e fondamentale affinché questo sviluppo delle competenze sorregga lo sviluppo delle nostre imprese. La Toscana ha diverse risorse per colmare queste carenze, come i corsi ITS, l'istruzione tecnologica superiore, costituita come una fondazione che collega scuole, enti di formazione, imprese, università, centri di ricerca e enti locali. In Toscana ce ne sono nove. E ci sono i centri per l'impiego, che sono strumenti e punto di osservazione per analizzare il mercato del lavoro profondamente cambiato dopo la pandemia, come spiega la direttrice dell'Agenzia regionale per l'impiego, Simonetta Cannoni. Le principali carenze si riscontrano nella ricerca di figura e della filiera tecnico-scientifica, ma anche nel settore del turismo, dove mancano cuochi. Le azioni in campo per supportare le aziende sono molteplici. Nell'immediato sicuramente un'attività molto importante può essere quella sul lato dell'orientamento e della formazione professionale. Ed è infatti questo l'ambito su cui Regione Toscana si sta attivando fortemente con vari canali di finanziamento. Cerchiamo di rispondere a queste problematiche investendo risorse sia regionali che utilizzando gli strumenti e le opportunità che ci vengono dall'Unione Europea, in particolare dal PNRR, che per quanto riguarda il nostro ambito si traduce nel cosiddetto programma garanzia e occupabilità dei lavoratori. Insieme questi due programmi cubano intorno ai 100 milioni di euro, con i quali si va a finanziare in particolare attività di formazione che cerchiamo di realizzare sempre più mirata alle esigenze delle persone e delle imprese del territorio, quindi differenziata per ambito. E nel prossimo futuro l'azione si implementerà con nuovi fondi europei. A giorni, il primo marzo, il Presidente Gianni presenterà i nuovi fondi europei per il settennato 2021-2027. Nell'ambito di questi ci sono effettivamente diverse risorse per favorire, incentivare l'assunzione di disoccupati, inoccupati, piuttosto che varie forme di imprenditoria o ancora appunto per formare, diciamo, aumentare quelle che sono le competenze dei lavoratori. L'occasione di oggi, che nasce da un confronto tecnico avuto nel 2021, è quello di capire effettivamente che cosa le imprese cercano, soprattutto quelle medio-grandi, cercando quindi di abbinare al meglio quelli che saranno i nostri strumenti, le nostre opportunità attraverso appunto dei bandi che si basano su fondi europei e che da quest'anno riprendono e accompagneranno i prossimi anni. Quindi la competitività ha bisogno di un capitale umano formato e che continua, diciamo, a rigenerarsi, a formarsi per affrontare anche le nuove sfide che sono quelle della transizione digitale, piuttosto che quella della sostenibilità ambientale ed energetica. L'obiettivo è dunque investire sulle risorse umane per essere più competitivi e soprattutto attrarre investimenti dall'estero, innescando così un circolo virtuoso che riesca a creare ricchezza e di nuovo lavoro. La Toscana è una regione che in Italia ha dimostrato di avere dei buoni livelli di attrattività e in quelli che sono dei settori specifici, faccio un esempio su tutti quello della moda, abbiamo delle competenze rilevanti che hanno favorito lo sbarco di numerosi investimenti da parte di aziende straniere. È ovvio che chi si ferma è perduto in questo caso, nel senso è necessario comunque, soprattutto quando miriamo ad attrarre investimenti su quelli che sono dei settori particolarmente avanzati o sofisticati, penso alle energie rinnovabili piuttosto che le advanced manufacturing, accompagnare questo sforzo di promozione con una formazione e una qualificazione della forza lavoro e quindi delle competenze presenti in regione.